La villa di Poggio a Caiano, dal 2013 patrimonio UNESCO con le altre ville medice, ospita presso il preesistente Museo della Natura Morta una mostra su un aspetto particolare della pittura del 6-700, quello della rappresentazione di interni di cucine, di cibi e delle figure preposte alle preparazioni culinarie. Le prime rappresentazioni pittoriche di interni di cucine si hanno nella pittura fiamminga, alla metà del 500, con scene religiose e allegoriche, temi ripresi da pittori come il cremonese Vincenzo Campi ed il veneto Francesco Bassano, di cui si può ammirare nella mostra Il Cristo in casa di Marta. Nel corso del 600, la rappresentazione di cucine e ambienti domestici acquista gradatamente una sua autonomia fino a diventare un vero e proprio genere pittorico, che rappresenta ed esalta ambienti e oggetti del vivere quotidiano. La mostra, curata da Maria Matilde Simari, direttrice della Villa e del Museo, si colloca nell'ambito di Expo 2015, di cui ha il patrocinio, e offre un punto di vista originale ed inedito per entrare in contatto con questo particolare aspetto della pittura di genere del 6-700. Le opere, provenienti da collezioni fiorentine e da altri musei e collezioni italiane, sono raccolte in tre sezioni. La prima è dedicata alle rappresentazioni di interni di cucine, la seconda riservata alle figure preposte alla preparazione dei cibi, i cuochi quindi. La terza, infine, alle dispense, luoghi annessi alle cucine destinati alla conservazione dei cibi. In mostra anche vari oggetti d'uso domestico, come coltelli, brocche, piatti, che danno modo di comprendere come gli artisti specializzati in questo genere pittorico del 6-700 traessero concreta ispirazione dagli ambienti e dagli oggetti della vita di tutti i giorni. Nel 600 comincia a manifestarsi un interesse teorico verso l'arte culinaria, sia per i luoghi destinati alla preparazione dei cibi, che verso la figura del cuoco professionista, come testimoniano alcuni famosi manuali di cucina del XVI e XVII secolo, tra cui la celeberrima opera di Bartolomeo Scappi, che si trova tra gli oggetti in mostra. Un richiamo importante è dato inoltre dall'apertura al pubblico delle grandi cucine segrete della Villa Medicia di Poggio a Caiano, progettate ed edificate tra il 1614 e il 1619 durante il regno di Cosimo II nei Medici. Queste cucine, dedicate alla esclusiva preparazione dei cibi destinate al Granduca e per questo dette appunto segrete, separate dalle cucine comuni dove si preparavano i cibi per la Corte, vengono presentate dopo un intervento di manutenzione, ripolitura e messe in sicurezza. La mostra è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Toscana e il Polo Museale regionale della Toscana. La ex soprintendenza speciale per il patrimonio storico-artistico ed etno-antropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, la Villa Medicia di Poggio a Caiano e Firenze Musei.